Da quando siamo partiti otto mesi fa, quasi nove, siamo partiti da un'analisi della situazione di fatto. Abbiamo visto che da un punto di vista normativo vi era una grande abbondanza di iniziative su questo mondo. È un sistema che è iniziato con le norme passera e poi man mano è stato perfezionato nel corso degli anni. Ma il nostro Paese soffriva e soffre tuttora di una grave crisi di capitalizzazione di queste società. Quindi c'era l'esigenza di creare un player pubblico che facesse da traino a questo ecosistema e lo stiamo creando col Fondo Nazionale di Innovazione che stiamo creando che è previsto dalla legge di bilancio e adesso sta per essere incorporato da Cassa Depositi e Prestiti. Il nostro obiettivo però è quello di allargare la platea di soggetti che fanno venture capital, quindi anche utilizzando fondi pubblici e in qualche modo anche ulteriormente contaminare la platea italiana attingendo alle migliori esperienze internazionali sul livello. In Reggio Grazio cosa si tentò di fare dopo un po' di tempo nella fase iniziale? Si fece una speciale commissione start-up Lazio con il professor Carlo Alberto Pratesi e immediatamente iniziarono una serie di progetti utilizzando fondi europei, utilizzando le opportunità, cercando di capire però dove era l'elemento più forte da attivare e si iniziò subito dalle università, dalle scuole. Tutti i primi progetti sono partiti all'interno delle scuole, 900 docenti coinvolti, migliaia di ragazzi che hanno cominciato a prendere confidenza con una possibilità, con un'informazione, con un percorso che poteva anche arrivare a concretizzarsi in una loro idea e magari trovare elementi di finanziabilità. Poi l'apertura di 11 spazi attivi. Cosa sono gli spazi attivi? Un po' in tutta la regione Lazio, prevalentemente sul Roma, ma uno in ogni provincia. Gli spazi attivi sono dei luoghi dove i giovani possono andare, gli imprenditori possono andare, chi vuole finanziare può andare e può cominciare in qualche maniera a trovare dei luoghi dove realizzare anche un po' quei piccoli elementi di ecosistema come quello che è stato citato che fate voi. Questo è un grande ecosistema. Però gli spazi attivi avevano questa idea. Quindi è tutto evidente che è fondamentale tenere insieme tutte queste tessere del puzzle. L'ecosistema che avete citato si regge se università, imprese, istituzioni e chi finanzia si tiene insieme e condivide percorsi, rispetto anche alle diversità di vedute che ci sono, rispetto anche alle diversità di idee e di input, ma è chiaro che debbono stare insieme. Quello che vorrei dire adesso invece, proprio come saluti istituzionali, che porto volentieri grazie dell'invito, è che quello che diceva lui, insieme, l'ha detto tre volte, condivido, è solo insieme che possiamo fare qualcosa. Le imprese, piccole, medie, grandi, le università, i centri di ricerca, il governo, la regione, il comune. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è il motivo per cui siamo qui. Il dialogo poi che verrà fuori ovviamente da questi incontri, la possibilità di scambi, questo è perfetto ovviamente, è quello che serve, però davvero lo possiamo fare solo ed esclusivamente se lo facciamo insieme ed è una bella opportunità questa, quindi grazie. E quindi l'associazione però, ecco, sono orgoglioso di dire che è arrivata al settimo anno di vita, l'associazione non è più una start-up, siamo partiti nel 2012 in otto soci fondatori con un'organizzazione che cubava, adesso vi do un insight, 10-12 mila euro di quote associative annuali su cui dover far girare la macchina associativa che nasceva con lo scopo di aiutare quei primi pochi operatori che avevano cominciato tra il 2010 e il 2011 a fare venture business a Roma, da allora ad oggi adesso siamo 65 associati che non sono le start-up ma sono gli operatori intermedi, cioè quelli che costituiscono l'ecosistema, la filiera del venture business, abbiamo una gran parte delle università di Roma e del territorio regionale, abbiamo le scuole di impresa, abbiamo la totalità dei pre-acceleratori, degli incubatori, degli acceleratori, i pochi investitori che ci sono ancora ma questa è una parte su cui lavoreremo sicuramente per accrescere la scena dal punto vista dei fondi, grazie tra l'altro all'intervento del governo. Le corporate, tutte le corporate del territorio che operano e fanno open innovation, investono in start-up, si sono tutte via via aggregate all'interno di questo progetto, questa piccola associazione che oggi appunto è diventata un'organizzazione complessa, non più basata sul volontariato, finalmente con una squadra, sono due anni che abbiamo finalmente delle persone che lavorano a tempo pieno e quindi con questa piccola squadra in questo crescendo poi tre anni fa abbiamo, ci siamo detti, diciamo un ecosistema ha bisogno di essere visibile, ha bisogno di una vetrina perché deve collegarsi con altri ecosistemi altrimenti anche se è un organismo vivo è un organismo isolato e quindi deve collegarsi e soprattutto ha bisogno di allargarsi, contaminare, parlare alla città e quindi Grazie.